Entro il prossimo 19 dicembre dovrebbe prendere corpo il progetto definitivo del porto canale di Bagnoli integrato con le richieste e le garanzie avanzate dal comune di Napoli e dalla società Bagnoli Futura. Sentiamo Antonio Forni. Dovrebbero arrivare entro il 19 dicembre le integrazioni ai progetti per il porto canale di Bagnoli richiesti nella conferenza dei servizi dalla sua intendenza regionale. Anzi, dovranno arrivare per non prolungare ancora i tempi. Come in pratica chiedono sia il comune che la società Bagnoli Futura, presieduta da Rocco Papa. E sono tre i punti su cui i progettisti delle tre società proponenti, Marine di Napoli, Nautica, Partenopea e Onda Azzurra, dovranno integrare gli elaborati, come fecise in una notta il vice sindaco Tino Sant'Angelo. Innanzitutto sugli aspetti paesaggistici e ambientali, dalla linea di costa all'integrazione con le iniziative nelle aree adiacenti. Serve poi un approfondimento tecnico sull'analisi idraulica e morfologica. Alcuni parlano di possibili rischi di insabbiamento. Infine, sugli aspetti idrogeologici dell'opera. Prossimo appuntamento dunque verso metà dicembre, mentre fa capolino l'ipotesi di un unico consorzio con dentro Bagnoli Futura per la costruzione e la gestione del porto.